bentornati sul canale bentornati sul canale dunque maglia maglia come vedete natalizia 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 perché perché il clima è natalizio e fra un po ci stiamo avvicinando a grandi passi al al natale ma c'è qualcuno che non è in vena di regali anzi più che in vena di regali direi direi in vena di di gravi contestazioni e mi riferisco e mi riferisco a chi ha già messo sulla graticola puntando l'indice puntando l'indice su lautaro martinez intanto oggi è tornato in campo lukaku gli ultimi 15 minuti nella sconfitta del belgio grave gravissima contro il marocco sconfitta meritatissima belgio veramente sottotono sulla scia peraltro di quanto visto anzi non visto lato belga contro il canada che poi ne ha prese quattro dalla croazia di brozovic brozovic in campo tutta la partita e ho notato una una discreta crescita del centrocampista nerazzurro luca con un auto a quanto ci risulta finora alcun problema quindi può darsi può darsi che martinez nella gara da dentro fuori perché il belgio dovrà assolutamente vincere se vorrà passare il turno visto che ormai la classifica recita marocco e croazia 4 anzi croazia e marocco 4 per differenza reti croati in avanti belgio 3 canada 0 canada eliminato che affronterà in ultimo turno il marocco e un pari non basterebbe al belgio per differenza reti perché attualmente il a meno che a meno che a pari punti magari il canada non non vinca dilagando sul marocco cosa molto molto complicata quindi ragionevolmente un pari non potrà abbassare al belgio e il belgio dovrà vincere magari martinez chissà vorrà schierare dall'inizio lucavo difficile difficile perché chiaramente non è nemmeno al 50 per cento immagino io uno che non ha giocato un 45 minuti negli ultimi tre mesi e però può darsi che sia una può essere un'opzione può essere un'opzione vediamo 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 intanto le cose appunto sono andate bene per brosovic sono andate bene ieri per lautaro parlando di argentina argentina ha battuto il messico una gara molto equilibrata molto rognosa molto fastidiosa l'argentina ne è venuta a capo grazie a un a un sinistro di messi con qualche complicità su medio ciova che chiaramente vista anche lì la carta d'identità non ha più la reattività di un tempo restando comunque un buon portiere ma è andato giù con molta lentezza tiro angolato ma non velocissimo bel gol comunque di messi e poi raddoppio di di fernandez e centrocampista del benfiga abbiamo visto anche in champions ma lo conoscevamo lo conoscevamo era un investimento veramente poco rischioso perché la qualità c'era tutta però a volte arrivano prima all'estero e lautaro devo dire ha fatto stato autore veramente una prestazione negativa ieri ieri molto negativa come un po tutta l'argentina per circa 50 55 minuti poi dopo il gol si sono sciolti ma è stato un argentina che si vedeva zavorrata dal k o con con la rabbia saudita all'esordio perché non solo era stata una sconfitta una sconfitta inaspettata ma era stata una sconfitta inaspettata contro un avversario di basso basso livello poi per carità ci hanno messo cuore volontà grinta anche idee anche idee tanto coraggio però se l'argentina fa l'argentina la rabbia ne deve dare almeno tre quattro mini e ieri si vedeva questo blocco psicologico e poi tutto è stappato dal gol di messi e che si conferma dobbiamo scoprire oggi nel 2022 è un giocatore di livello inarrivabile e lautaro dicevo molto male molto male non solo perché non ha avuto di fatto occasioni ma non era una sera sera da storta sera da storta ma tanto basta per qualcuno in particolare per il sito online di sport mediaset per parlare di flop mondiale argentina vince si risolleva ma ma lautaro flop mondiale addirittura addirittura si candida secondo la redazione sportiva di mediaset non c'è la firma quindi non posso indicare l'autore così un articolo riportato si candida già per il premio flop mondiale della competizione e vabbè qualcuno dirà non bisogna dare spazio sì per certi versi sì però sapete è sempre il solito discorso dell'anche voler mettere i puntini sulle i perché l'argomentazione per quanto riguarda per giustificare il flop mondiale qual è di quel pezzo che secondo chi ha scritto quell'articolo lautaro ha flopato sia l'ultima gara quella di ieri col messico sia quella dell'esordio con l'arabbia saudita secondo me no cioè contro l'arabbia saudita era stato tra i meno peggio diciamo così tra i meno peggio aveva segnato due gol anche di pregevole fattura tolti entrambi per fuorigiocchi millimetrici su uno dei quali c'è anche un dibattito con la stampa argentina che ha prodotto nuove immagini secondo le quali non sarebbe stato annullare ma al di là di questo se la nostra analisi alla carlona come piace dire al buon antonio cassano si basa solo su ho segnato un gol o non ho segnato un gol ci resta poco in mano molto poco la prestazione lautaro contro la rabbia con tutto considerato peraltro in un contesto in cui l'argentina ha fatto fatica mi era sembrata tutto sommato positiva non non eccezionale ma positiva il gesto tecnico e l'idea il contributo su quei due gol per esempio resta ma anche tante altre giocate di pericolosità di lotta di quando l'argentina soprattutto nel primo tempo ha governato nonostante non avesse creato tantissimo però ha governato il pallone è andato avanti con anche costrutto lautaro c'era sempre quindi adesso mettere nel calderone anche la anche dopo la partita pessima pessima di ieri ma metterci anche quella del a rimorchio quella con la rabbia soddita mi sembra veramente qualcosa di forzato qualcosa di di antipatico perché si si vede è evidente la volontà di creare il titolo clickbait di andare lì a pescare pescare è che vuol dire a pescare tra quelli che vanno poi a leggere vanno poi a vediamo cosa hanno scritto perché tra chi magari si risente di quella di quel titolo e chi magari invece ci ci sguazza perché è felice di leggere di lautaro che ha fatto che ha fatto schifo però poi nell'analisi c'è l'errore l'errore evidente non è vero che su entrambe le partite lautaro ha giocato in maniera pessima poi da lì si passa al si candida per flop mondiale già ci portiamo avanti cioè quella quello quello io non lo chiamo più giornalismo quella è la lettura dei tarocchi è fare della stregoneria come diceva qualcuno state con gesù o con barabba state col giornalismo o con lo so con la o con gli stregoni la risposta sta a voi e in base alla vostra risposta vi andate un po a leggere quelle che sono le le fonti più o meno attendibili un saluto no speriamo che questo saluto poi non diventi flop mondiale chissà può essere